Cosa è la giurisdizione di Pisa? Cosa è la giurisdizione di Pisa? Per cui andava adottata questa decisione anche dal procuratore generale. Adesso possiamo concentrarci sulla prossima tappa che è quella già fissata per il 29 marzo davanti al GUP Murano che è appunto a Pisa. Avevano alla scorsa udienza le parti anticipato che qualora la giurisdizione fosse toccata proprio a Pisa avrebbero potuto avanzare delle richieste per riti alternativi e quindi si era parlato informalmente del rito abbreviato. Il 29 marzo scopriremo se gli imputati confermeranno questa anticipazione informale che avevano già dato oppure no. Ovviamente ora anche loro sono nelle condizioni di poter fare adeguatamente le loro valutazioni sapendo quale sarà il tribunale che si pronuncerà. Cosa che appunto fino ad ora non c'era. Noi in teoria avremmo dovuto avere già dopo domani un'altra udienza davanti al tribunale militare. Invece adesso sappiamo che quell'udienza non ci sarà. Per cui riteniamo appunto che il 29 marzo ci sarà la decisione da parte degli imputati e sapremo quale saranno le forme in cui continuare questo procedimento. È fondamentale in questa vicenda il lavoro che è stato svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta da cui poi si sono sviluppate tutte le indagini portate avanti sia dalla Procura militare che dalla Procura ordinaria di Pisa. È significativo da questo punto di vista. Io lo richiamo sempre un passaggio dell'ordinanza del GIP con cui era stata disposta la misura cautelare nei confronti di Panella nell'agosto del 2018. Lì si diceva che in realtà questo non era un call case per cui non si arrivava alla verità solo perché c'erano delle nuove tecniche investigative ma ci si arrivava comunque a questo procedimento quindi ad avere degli indagati a poter approfondire delle indagini solo perché c'era stata una testarda continua e approfondita ricerca della verità attraverso l'esame di tutta quella documentazione che era già stata raccolta ai tempi. In effetti è evidente, questo emerge anche dall'analisi dell'attività di indagine svolta appunto da entrambe le procure che gli elementi da cui partire erano già presenti 21 anni fa. Quindi abbiamo sprecato tutto questo tempo ma quello che ci interessa è che oggi finalmente abbiamo un procedimento. Grazie.